Una cosa bellissima e il Comune ci ha concesso per sei anni la gestione di questo bellissimo bar ristoro infrastruttura sociale al centro del Parco Miralfiore, chiuso da alcuni mesi. Tanti ragazzi, tutto il gruppo storico del Festival Autopia, quindi parliamo di 60 ragazzi che saranno impiegati o lavoro come volontari all'interno di questa struttura che sarà aperta dalla mattina alla sera, con tanti ragazzi dentro speciali che cercano un riscatto in questo luogo. Possiamo dire che il sogno è diventato nuovamente realtà, quando inizierà questo sogno? Dall'8 gennaio tutti i giorni, senza un giorno di pausa perché siamo veramente tanti, dalla mattina alle 7 fino alla sera alle 23 faremo colazioni, brunch, pranzo, cena, concertini con aperitivi, quindi tantissime cose sociali per far diventare a questo punto il cuore culturale e sociale della città. Sottolineo, nessuno ci credeva, è stato un progetto che inaspettatamente è esploso, noi ci credevamo invece ed oggi è realtà con la consiglia delle chiavi. Ringraziamo oggi anche Marusca Palazzi che li ha seguiti in tutto il percorso, ha fatto in modo che questo progetto andasse avanti e quindi in qualche modo il Comune ha voluto dare valore al progetto creando appunto questo bando e dando la possibilità di andare avanti. Quindi il Comune darà in comodato d'uso gratuito questa sede che potrà essere fruibile a tutti e poi abbiamo visto anche i grandi progetti e le grandi iniziative che hanno fatto all'interno di Utopia. Questo è servito a fare in modo che si creasse una comunità, una comunità di persone che hanno capito l'importanza del progetto e l'importanza di mettere al lavoro anche queste persone che hanno difficoltà nella vita ma che comunque nell'ambito lavorativo sono delle persone che possono fare benissimo il lavoro come tutti. Quindi un grande risultato, oggi ne sono veramente contenta perché Utopia non è rimasta un'utopia ma è diventato concretamente un progetto che tutte le persone potranno usufruire qui all'interno del Parco Miralfiore. L'Istituto Alberghiero quest'estate ha dato un buon ottimo contributo per l'allestimento del Festival Utopia con i propri locali, con gli alunni dove si sono impegnati tanti, con il personale docente. Adesso siamo qui per l'inaugurazione, per il prosseguo, il Festival Utopia parte seconda che è lo scopo principale per cui è nato il Festival Utopia. E quindi l'alberghiero impiegherà i propri alunni con, per quanto riguarda potrebbe essere l'alternanza il PCTO, l'alternanza scuola-lavoro e quindi sia gli alunni con gli alunni speciali che gli alunni con normodotati che affiancheranno la Gulliver in questo progetto. Saremo pronti da gennaio, saremo pronti e apriremo a tutto il pubblico. I ragazzi sono in trepida attesa e non vedono l'ora di iniziare. Cominceremo con le colazioni alla mattina, dei piccoli pranzi veloci al giorno e le cene alla sera.